Oggi si rinde un informe della Presidenta Olga Sánchez Cordero e attuò con dignità e decoro, attuò con independenza. Se han construito acuerdos. Grazie a tutti i senatori di tutti i gruppi parlamentari, abbiamo raggiunto consensos. Poi immaginare che il 80% dei nostri prodotti legislativi hanno stato approbato per unanimità. Proporso una presidencia respetuosa, plural e imparcial, con tutte le expresioni. Tengo la conviccia di che il Parlamento è per dialogare, per debattire tutte le inquietudze della Repubblica. In Parlamento deve garantire che sempre sia rappresentata la diversità sociale, politica e culturale di una nazione.